Oggi 7 settembre, non nel tradizionale 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, ma appunto il 7 perché l'8 cade di domenica e quindi il rito ambrosiano prevale da celebrazione è iniziato l'anno pastorale dell'Arcidiocesi 2024-2025, il pontificale tradizionale dell'Arcivescovo in Duomo, concelebrato dai membri del Consiglio Episcopale milanese, da diversi vescovi, tra cui il Vicario Generale Monsignor Franco Agnesi e da un centinaio di sacerdoti oltre i membri del capitolo metropolitano, presenti anche i superiori del seminario, proprio perché come sempre durante questo pontificale si svolge anche il rito di ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, cioè coloro che diventeranno, si spera, sacerdoti, e al diaconato permanente. Per la prima volta un sorpasso che vorremmo definire storico. Sono tre i candidati al diaconato e al presbiterato e otto gli uomini, molti di loro la maggioranza uxorati, cioè con le mogli, che sono candidati invece al diaconato permanente. Ebbene l'Arcivescovo nell'Omelia si è rivolto a tutti i presenti e ha ricordato lo smarrimento che viene da questa nostra vita che è così piena di violenze, di fatti incomprensibili, vorremmo definirli così. E ha ricordato il non coltivare, il rapporto personale col Signore, cosa che invece coloro che sono candidati, che hanno risposto il loro sì, nei diversi carismi naturalmente, al Signore devono comunque e sempre coltivare. Ma ascoltiamo proprio un passaggio dell'Arcivescovo nell'Omelia che si rivolge a questi candidati. Sono qui davanti a noi uomini di fede che si fanno avanti per dichiarare che intendono la loro vita come risposta al Signore che chiama, che chiama a servire la Chiesa, a servire il popolo cristiano al quale saranno destinati con l'ordinazione diaconale o presbiterale. Il servizio ministeriale, la scelta di presentarsi candidati per il diaconato e per il presbiterato non è una scelta di cui ciascuno è protagonista con la presunzione di rendersi utile, con la convinzione di aver qualcosa da dare al Signore e alla Chiesa. Questo presentarsi è piuttosto la risposta, la risposta alla chiamata della Chiesa, di questa concreta comunità diocesana che sceglie, dopo attento discernimento, persone disponibili a far parte del clero diocesano per continuare la missione della Chiesa. Poi, come detto, il rito di ammissione con la presentazione dei candidati, il loro porsi davanti a circolo in altare maggiore, coloro che sono sposati, futuri diaconi permanenti, con le mogli che hanno espresso il loro, sì anche loro, a che i mariti intraprendano questo cammino, in ginocchio, infine con le litanie dei Santi e poi naturalmente la prosecuzione della celebrazione fino a quella indicazione, a quella sottolineatura finale dopo un breve intervento del Vicario Generale che ha ricordato i punti salienti di questo anno pastorale che inizia con l'entrata in vigore della seconda edizione del Messale Ambrosiano nella prima domenica dell'Avvento Ambrosiano, ossia il 17 novembre. E poi ci sarà il Sinodo a cui parteciperà naturalmente come padre sinodale dell'Arcivescovo, Sinodo Universale dei Vescovi, ma anche il Sinodo che tutti noi viviamo come Chiesa Italiana e le Assemblee Sinodali De Canali che sono in qualche modo il nostro essere in sintonia con la sinodalità che percorre la Chiesa di Papa Francesco. E dicevo poi le parole dell'Arcivescovo, a conclusione, quasi un monito, una consegna. Nelle nostre case c'è violenza, lo sappiamo, abbiamo sentito gli ultimi fatti di cronaca nelle nostre case, ma ci sono anche tanti morti nei luoghi di lavoro, troppi morti e le carceri con la loro situazione drammatica. E allora l'Arcivescovo ha invitato a pregare e ascoltiamo lui che proprio su questo è tornato ai nostri microfoni a riflettere. Sì, l'elenco delle disgrazie e delle sofferenze è fin troppo consueto e troppo deprimente. I cristiani non si limitano però a dire e a soffrire per tante situazioni, ma intravedono la possibilità di una salvezza proprio perché credono che Gesù è il Salvatore. Quindi noi cominciamo l'anno pastorale non, diciamo, gravati dal pessimismo, ma piuttosto incoraggiati dalla presenza amica del Signore che non ci abbandona mai. Ma all'Arcivescovo abbiamo anche chiesto di questa sorta di sorpasso tra virgolette, tra il numero dei diaconi permanenti, otto in specifico quest'anno, e quello dei candidati al diaconato e al presbiterato, tre i giovani che si sono presentati a Monsignor Delpini e idealmente a tutta la Chiesa Ambrosiana. E lui ha detto che i numeri non mi affascinano molto, ma... Ma come lei sa, io non sono tanto sensibile ai numeri e quindi non è la prima cosa che mi fa pensare ecco questo fatto della contrazione numerica dei seminaristi. Certamente il numero dei candidati al diaconato permanente dice che ci sono uomini, adulti, che hanno già avuto esperienza di vita, che vivono in famiglia, che hanno una professione e che avvertono la chiamata a un servizio nel Ministero ordinato. Quindi per dire che il Ministero sta cambiando forma perché non è riservato ai preti e anche noi preti dobbiamo imparare a collaborare con i diaconi come con tutto il popolo cristiano. Però il prete, ecco, rimane colui che preside l'Eucaristia, rimane colui che risponde a coloro che vogliono dire basta al peccato con la soluzione. Quindi la differenza numerica è meno rilevante della chiamata alla santità di chiunque si metta a disposizione di Dio per rendere possibile la santificazione del popolo cristiano.